Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha pianificato un'operazione ad alto impatto nella sesta municipalità del capoluogo. I controlli hanno riguardato i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, in particolare via Nuovo Gioreale, via Cuba del Principe, via Argine, via delle Repubbliche Marinare, via Don Agostino Cozzolino, rione dei Gasperi, via Camillo de Meis. Sono stati 88 i controlli eseguiti su mezzi e persone, 13 le situazioni illecite rilevate, tra denunce all'autorità giudiziaria e segnalazioni alla Prefettura per contrabbando, droga e contraffazione. In particolare i baschi verdi del gruppo pronto impiego e i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano, supportati da due unità cinofile, di cui una della compagnia di Capodichino, hanno sequestrato due chili di sigarette di contrabbando, circa 13 grammi tra ascisce e marijuana, già suddivise in dosi e diverse decine di articoli contraffatti. Sequestrati anche nel quartiere Ponticelli 29 grammi di mannitolo, un particolare farmaco utilizzato per tagliare la cocaina, particolarmente nocivo per la salute, poiché crea una più intensa dipendenza, abilmente occultati in una fessura di un muro fronte strada. L'intervento rientra nel quadro della costante attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio svolta dalle fiamme gialle partenopee, al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa soprattutto nelle aree più critiche della città.